il treno regionale 12 8 6 6 di trenitalia proveniente da catania centrale e diretto a messina centrale delle ore 5 e 49 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 38 65 di trenitalia proveniente da messina centrale e diretto a siracusa delle ore 6 e 03 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma alcantara fiume freddo di sicilia giarre riposto a cireale catania centrale lentini augusta priolo merilli il treno regionale 12 8 6 5 di trenitalia proveniente da messina centrale e diretto a catania centrale delle ore 6 e 47 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma alcantara calatabiano fiume freddo di sicilia mascali giarre riposto a cireale catania ognina il treno regionale 38 66 di trenitalia proveniente da siracusa e diretto a messina centrale delle ore 7 e 01 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma santa teresa di riva il treno regionale 85 79 di trenitalia delle ore 7 e 17 per catania centrale è in partenza dal binario 3 ferma alcantara calatabiano fiume freddo di sicilia mascali giarre riposto caruba guardia mangano santa venerina a cireale il treno intercity note 19 55 di trenitalia proveniente da roma termini e diretto a siracusa è in arrivo al binario 2 invece che al binario 3 attenzione attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma giara riposto a cireale catania centrale lentini augusta il treno regionale 85 80 di trenitalia delle ore 8 e 14 proveniente da siracusa è in arrivo al binario 2 invece che al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno intercity 722 di trenitalia proveniente da siracusa è diretto a messina centrale delle ore 9 22 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie annuncio cancellazione treno il treno regionale 78 05 di trenitalia previsto in arrivo da litoianni e diretto a catania centrale alle ore 9 47 oggi non è stato effettuato ci scusiamo per il disagio il treno intercity 724 di trenitalia delle ore 12 27 proveniente da siracusa è diretto a roma termini è in arrivo in ritardo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma messina centrale messina marittima villa san giovanni mare villa san giovanni la mezzia terme centrale paola sapri salerno napoli centrale avversa formia latina il treno intercity 35 085 di trenitalia proveniente da milano centrale è diretto a siracusa delle ore 13 39 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma giara riposto a c reale catania centrale lentini augusta il treno intercity notte 78 c 5 di trenitalia proveniente da pisa centrale è diretto a siracusa delle ore 13 13 39 è in arrivo al binario 2 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma giara riposto a c reale catania centrale lentini augusta il treno regionale 78 12 di trenitalia proveniente da catania centrale è diretto a letoianni delle ore venti e diciotto e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regionale 85 73 di trenitalia proveniente da messina centrale è diretto a fiume freddo di sicilia le ore 21 e 51 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie ma seconda io